In questo numero del Salus Tg, osservatorio Gimbe, troppi farmaci ed esami per il mal di schiena. Se hai memoria non sei multitasking, il segreto in un gene. Phnomceo a Lorenzin, agli ordini il potere di autorizzare la pubblicità. Nei pazienti con lombalgia e sciatalgia alcuni trattamenti come l'esercizio fisico, la terapia manuale e la psicoterapia vengono ampiamente sottoutilizzati, mentre vengono dati inappropriatamente analgesici e soprattutto una valanga di test qualità che risonanze magnetiche che allungano le liste d'attesa. A documentarlo sono consistenti evidenze scientifiche e a tal proposito l'osservatorio Gimbe per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è corso ai ripari ed ha eletto i test di imaging nel mal di schiena a sorvidiati speciali per stimare sprechi diretti e indiretti conseguenti al loro sovrautilizzo. Puoi vantare una memoria di ferro? Allora non sei multitasking e viceversa. A svelare i meccanismi genetici coinvolti è una ricerca condotta dal team guidato da Francesco Papaleo dell'Istituto Italiano di Tecnologia in collaborazione con le Università dell'Insubria di Padova e di Cagliari. Secondo lo studio la capacità di ricordare in modo efficiente il passato e l'abilità di compiere con successo più operazioni contemporaneamente non possono convivere negli stessi soggetti per ragioni legate alla genetica. Pubblicità sanitaria sottoposta ad autorizzazione da parte degli ordini professionali è la richiesta formale al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin contenuta in una mozione promossa dal presidente della Commissione Albo-Dontoiatri nazionale Giuseppe Renzo e approvata all'unanimità dal Consiglio nazionale della FNOMCEO riunito venerdì scorso a Siena.